Dio vuol parlare al tuo cuore Leggi la sua parola La Bibbia, la vera guida per una vera vita La buona novella Professionalità, serietà, qualità 40 tipi di rilegature divise in 4 formati diversi Le migliori traduzioni Chiavi bibliche e commentari Per accrescere nella conoscenza delle scritture E per diffondere la parola di Dio La buona novella Editori per fede e per passione Chiamaci allo 0832 760317 So we can talk Let me feel your breath Chiamati allo 0832 760317 Grazie a tutti